Salve a tutti ragazzi del vostro Manzingazzetto e bentornati su questa nuova puntata su Rampage Night Sempre anche questa volta accompagnato dal vostro Mac come promesso con le coroncine da imperatori del mondo perché siamo i più fichi E stavolta abbiamo deciso di prendere due ragazze e di cambiare entrambi i classi perché Mac ha sbloccato la classe dell'assassino E quindi la chiameremo Sakura, giusto? Carta del vento Carta del vento No, in questo caso tristemente Sakura per Naruto perché sei una specie di ninja Però carta del vento Non ci sono più, mi nascondo dopo quello che avevi detto visto che devo essere per Naruto mi nascondo No va bene dai vieni fuori Sakura, va bene pesca la tua carta Io invece faccio il Warlock che è una nuova classe che praticamente parte con metà vita dell'avventuriero Adventuriero, mio dio Metà vita dell'avventuriero Però con il doppio di potere magico e uccidendo gli amici sviluppo una specie di famiglio che spara a fuoco e quando si sviluppa completamente mi dà una vita extra Quindi è figo il Warlock Io ho praticamente metà della vita che avevo prima quindi sarà molto divertente E sono una ragazza gotta Quindi io soffro Io sono giapponese Lui è giapponese E basta Ah qua abbiamo già spazzolato prima perché McDova mancava uno tutto da lancio tirato per sbloccare l'assassire Quindi abbiamo un attimo spazzolato due stanze Avrei potuto tranquillamente farlo nelle due run precedenti Sono giapponese D'altronde io sono giapponese Io sono giapponese Sono giapponese Aia E che ca... Aia Non Aia Esatto Ok guarda che bello il mio demone Che carino che è Wow Sembra Patamon Cioè è un... Si è vero Sembra un Digimon Ma appena diventa più forte Cosa figa è quella Super Digimon con lui Si Ok prenditi la cosa che costruisci ai ponti Giapponese Ti ricostruisci Questi li scoporti sono giapponesse D'altronde 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 Potremmo sembrare molto beci Che facendo queste battute ma noi ci divertiamo tanto Si anche perché poi abbiamo fatto due... Abbiamo passato due battute nelle quali ci siamo presi per il culo Perché siamo genovesi Quindi di conseguenza Si esatto Non è che... Non potete neanche darci dei razzisti Ci siamo presi tranquillamente per il culo Per due ore Si si Come diceva mia madre oggi Ma... Ma South Park La gente... Non lo insula di cattiveria Perché mi insulta tutti Io ho detto Ma no ma perché mi insulta ogni etnia Cioè non è che si Incazza con una in particolare No Tutte 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 Ebrei, italiani, messicani, spagnoli Adesso hai visto che sei... Loro stessi Loro stessi Visto che sei di Gevoluto Si Vero E spara palino di fuoco adesso C'ho gli occhi fuori dalle orbite tra l'altro Oh scusa Tranquillo Scusa Grazie Se non fosse a distanza Fammi male Fammi male Ma è vero tu Merito di soffrire Oh minchia Hai diventato grosso adesso il demone Di lungo lo stronger Si E questo è una sorta di... Del nuovo Samson Minchia hai visto? Ne spara due Si E tra l'altro Posso averne quanti ne voglio finchè non muoio Cioè Che bello Quando arriva a full Cioè quando si sviluppa del tutto il demone Sdoppia Eh no Ne nasce un altro piccino E pian piano Diventa più grande Che meraviglia E se muoio Spariscono tutti E Torno in vita Eh si Ma è bello e importante come personaggio allora Si il problema è che Nel single player Tu hai due vite di base Il warlock No Ne ha una sola E le sviluppa solo con i demoni Quindi Non è così figo Il multiplayer Il multiplayer invece è figo E' molto forte il multiplayer Il multiplayer si E' sgravissimo Spero Però ho comunque 40 Ho comunque 40 di vita eh Capiamoci Si non è che sei pieno Ne ovviamente proprio io Oddio Prima sono andato avanti con 20 di vita eh Però Avevi Avevo i danni raddoppiati avevo Esatto Ma io sono giapponese Ah no io sono giovane No Tu vorresti essere giapponese No io non voglio essere nessuno Voglio Cadere a passire nel plenilugno della notte Del mio tormento Esatto Tormentoso Minchia Cioè gli è venuta la barbetta il mio demone Che carino E poi di C'è anche due corni Non da poco tra l'altro Eh no Eh perché sono una ragazza molto cattiva Meriti di essere punita Merito di essere punita Esatto Perché sono giapponese Io sono giapponese Non sto sbagliato Sto facendo confusione Chiedo scusa Allora Allora L'arma velenosa scusa la prendo io Scusa eh Allora 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 Chi diventa Bomberman? Chi diventa Bomberman? Chi diventa Bomberman? Fox o Leeds? Io non posso prenderlo Sì? Puoi prenderlo Posso prenderlo? Sì sì You get bombs You can pick up Le bombs Immunity to Explosion Come vuoi? Faccio io? Ehm Non lo so Forse sai usarlo meglio te secondo me Ma no in teoria non fa niente Cioè Diventi su di moda le esplosioni Puoi raccogliere le bombe per terra Ah vabbè allora Ehm Beh da giapponese o da GOT più le esplosioni? Fammi capire Secondo me che poi che godi nelle esplosioni è più da GOT Più che altro perché l'armatura non dovrei prenderla Esatto Non ha molto senso Ok va bene Tu godi nel soffrire Ok Esplosioni Io ho tre bombe Perfetto Allora La tua cosa L'armatura Si dura sei colpi o sette se non sbaglio Sotto a fianco all'oro c'è scritta Si 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 c'è scritto E poi si rompe e niente Si butta Alcune armature quelle che non bloccano i danni Tipo quella che avevo io prima da Bomberman Sono perenni Durano per sempre Non si possono rompere Perché non ti danno difesa ma ti danno solo abilità speciali Stiamo trovando un sacco di Di cura ferite Ma un Si Un frego Che si è vero Vabbè Con le telesplosioni volevo fare kamikaze Ma va bene Ma sono Che cosa Ah Non capivo cosa avevi in mano Poi adesso ci hai fatto Ho capito Un pene Ok O sono mortale Il demon è sviluppato Il demon è sviluppato al massimo Il doppio stato è figo Si Ti puoi spostare molto Si Posso veramente volare dalla parte Adesso c'ho C'ho un nonno col fratellino Ha portato il figlio al lavoro Ecco Hai visto che carini che sono Che carucci Eh è diventato Già grande è diventato E su una ricerca eh E su una ricerca E su una ricerca Eh infatti dicevo Sto parlo di fuoco che girava così Eh si Nei multiplayer Ammetto che sgravo a merda Bor Si e in effetti Se non fosse che c'hai veramente due punti vita Non è che Ci stai così male qua dentro No Ah Cazzo di armatore di me Ah Abbronzattissima Sì sì Ma quale versione vuoi cantare a sto punto? Abbronzattissima Ci sono Quella original La original version O quella dei Di Come si chiama quello? Zozzone rapper Adesso Saltiamo Zozzone rapper che ci Eh Quale? Ruggero dei timidi? No Quello che c'ha la voce molto rocca che Come si chiama? E' dei Flaminio Mafia Era tipo quello di Flaminio Mafia Minchia Flaminio Mafia Oh mio dio Mi sembra che fossero loro Quello che diceva Io ti amo e tu lo sai Sai che non l'ho mai sentita? Ma mi chiedo come fai Cioè non mi dispiace il fatto che non l'abbia mai sentita Però Non l'ho mai sentita Ma ti dirò Non mi faceva neanche schifo come cover in quanto cover Peccato che l'abbiano fatto tipo E' stato uno dei primi tormentoni Veri e propri Proprio i veri e propri tormentoni che tipo Che te lo senti per giorni, mesi e anni Ti spareresti piuttosto Io direi di fare dell'oro e tornare a prendere la maschera Cioè uno di noi La maschera non male Io la spadina prenderei volentieri No prendi la mazza E' più forte Cioè fa gli stessi danni E ha un'abilità speciale Quindi Spanna tra l'altro Sì Esatto Facciamo un po' di soldi Andiamo a fare un po' di soldi Vieni qua Eh no ho sbagliato Ufff Ma sei giapponese Giapponese Capitemi Sono giapponese Non posso Porca pu Sì in effetti mi ha 4 schiaffi Io sono morto Manaccia Manaccia C'era qualcosa di c'è man Ah era Vabbè sì era Era quella che Che aiutava Olmo nel cantare Oh Vanette 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 bravo Non mi veniva mai Con quello ti posso aiutare quante volte ho la guarda Olmo e Vanette Olmo e Vanette Veni O anche Olmo con le ospiti speciali tipo Giorgia Esatto Tipo Quella di Tre Parole Cioè Poi da Vanette la Cortellesi ha fatto un tot di nuovi personaggi cantanti Scusa eh guarda quanti demoni c'è Che era Piera Williams Ma donna e cos'è Desastante La cosa triste è che quando morirò se ne vanno anche tutti La cosa triste Esatto Sì no ma la Cortellesi nel senso non è male a cantare eh Sì sì no ma sa fare tutto La Cortellesi è clamorosa Cioè è una delle poche attrici che sa veramente fare tutto E aveva fatto anche tutti questi personaggini Aveva fatto Piera Williams che era tipo una cantante nera che faceva Faceva tipo la frontman delle wooden chicks Ah le fighe di legno Sì mi ricordo Che aveva fatto una canzone con Frankie e i Energy che si chiamava Non mi chiedermi Ah mera sai che potrei ricordarvi qualcosina perché le fighe di legno me le ricordo Poi l'aveva tutto sviluppato e c'erano anche le varie comparse a un certo punto L'aveva fatta Sanremo anche L'aveva creata con la Gialappas Davvero Però poi l'aveva portata addirittura a Sanremo Ah aspetta Fallo te perché sblocchi Penso per il pirata Apri gli scrimi Ah Le wooden chicks Le wooden chicks Sì sì adesso viene Non mi chiedermi un orgasmo perché non so come si scrive E' vero E' vero E' vero Vabbè c'era anche sempre con il mevanette c'era non mi sento in ordine E' vero E' vero non mi sento in ordine me l'ero dimenticata E' vero Sempre pronto a riportarti alla mente certe perle Quelle queste cose vanno ricordate Ok Vanno assolutamente ricordate Guarda che bello sono una bomba con una maschera tiki davanti Quindi carino Oh Sì perché poi somma anche questo Anche questo tende a sfumare Sì esatto E non mi sento in ordine Ah proprio dito anch'io Dimenticavo di avere una sorta di Una attiva Una sorta Strano eh Non so come mai Oh bello che posso andare tipo Con dei barilli esplosivi a cazzo durissimo a farli esplodere Perché tanto io ho ponte sega Sì esatto te le esplosive te le frega la mazza quindi Ma sai che per Per l'or Ficclicamente dovevi prenderlo te Hm? Per l'or dovevi prenderlo te Bombermè Vabbè quello stesso Mi farò qualche quantittina Mi farò qualche quantittina Oh scusa No ma tanto Dovevo uscire Ma perché io devo soffrire E quindi questa cosa mi impedì di soffrire Hai ragione Eh E che cazzo Ora che ci penso In effetti era Eh però Se no avevi l'armatura Non so cosa era più sensata eh Eh ma se no è Mi inchiaccia un inferno di fuoco Sicuramente È devastante Penso che più di tre non puoi Perché sennò Ne sarebbe già cresciuto un altro Tra l'altro non so se ti sei reso il conto Ma ho ancora l'armatura dell'inizio Non ti sei ancora fatto colpire sette volte Già gg No? Incredibile eh Sì infatti Sono emozioni che non ho mai provato Solo qualche volta in Isaac Ma giusto perché Furia di giocarci poi ho accetto appunto uno Aspetta Fai tu fai tu E E E Occhio a quello là che è giusto Si diventa difficile Uh gg Questo io ce l'ho Quindi se vuoi Eh io avevo quella sporca ma intanto ho 40 pf Ecco Olle Olle Niente Madonna che cas... Tra l'altro sono un casino della madonna Stai a fare Sì Beh io ho l'audio del gioco tipo basso a merda Quindi fortuna che Meno male E la evito Meno male per te Meno male per chi Esatto Per chi Guarda C'è gente che gioca ancora quest'ora C'è C'è Elie Branky che sta giocando a Dark Souls A quest'ora Dove vedere Oh Giocare a Dark Souls a quest'ora è un viaggione non da poco ma devo dire Allora Io ho un problema grosso adesso Perché io muoio qua Oh che bello Perché io non so fare i salti più che altro con la tastiera Basso destra e spazio non si scacciano insieme Basso destra e spazio Posso dare solo in alto e sta cosa di solito la calmo Oh mamma mia Eh non so Ok Con calma eh Io ho tab scusate Non ho un problema Aspetta che sono un attimo in tab Ok ci sono ci sono Ok ci siamo Oh mamma mia Agna Agna A algo Agna Io ho in questo inferno che mi ruota intorno Sì infatti è un po'ossenuitante sensibiliigeche Ti girano mentre stai cercando di fare un lavoro vicino Esatto Non puoi dirci cosa incontrire i coglioni Un attimo Ci avrai un po' da fare scusa un attimo È tipo la 9 volta che Perché se sbaglio sono morto Si infatti allora questo mi dà più 5 danni magici, questo è un oggetto c'è più 5 di forza da qualche parte ah io prendo questo, si c'è più 5 di forza, vuoi prenderlo tu? non lo so, facciamo si? si prendo danni magici io ok quindi tu ti buildi sulla magia e io sul danno beh no perché comunque non ci si può buildare troppo sulla magia ma hai ragione, si io però prendo la tua spada sporca c'è un altro salto da fare, non siamo ancora al sicuro ma tu hai la pergamena per costruire i ponti, idiota è vero quindi devo fare così? usi la pergamena ma vaffanculo non mi ricordo minchia ma mi hai fatto sudare male non mi ricordavo nessuno l'avrà visto, nessuno può vederlo il morire quando ho tre demoni sviluppati mi da un attimo in culo si un pochino, sarebbe stato un po' brutto quindi adesso se torno c'è di nuovo tutto costruito? si si, certo ok si si ormai qualche schiavo giapponese ha costruito tutto giapponese? si giapponese ma il tizio con lo scuolo non mi ha dato il cazzo ma proprio cotto al razzo ma cotto duro proprio cotto al razzo? cotto al dente si no minchia no vabbè lo diceva vabbè niente prendi no no una persona no una persona che conosco che non vabbè lasciamo stare cose brutte ok allora il corno da guerra se tu non hai attive è figo lo suoni e diventi più forte più veloce per 10 secondi fallo fatti tipo al inizio di ogni stanza e poi peschi pipiii hai fatto un po' come hai fatto un po' il cotto al razzo hai fatto un po' come come quel che avevano la maglietta chak chak fina che invece di faksina incrociavano e dicevano chak fina tra l'altro ho visto una meme da qualche parte non chiedere su quale pagina facebook malata perché deve essere qualcosa di brutto dove c'era ah si sgorgo intestinale dove c'era la parola di io sono giapponese con jonsia diceva io sono e partiva jonsia ah perché adesso sta andando di moda come meme sta andando di moda jonsia e farlo usarlo un po' come eric rolling si che usavano per farlo scherzone cosa fondamentale poi ce ne partiva la musica di poi scherzone a me piace a me piace quella canzone è diventato il nuovo il nuovo il johnson è diventato il nuovo eric rolling cosa fondamentale poi è diventato la musica è stata fatta così ogni volta ma non me ne frega una mazza fondamentalmente arriverà il momento poi naturale in cui dirò basta morite male tutti quelli che lo stanno facendo c'era una pozione indietro aspetta che arrivo no no a me la canzone never gonna give you up a me è sempre piaciuta no a me non piace a me si non mi esalta no vabbè non è la mia canzone preferita però non mi dispiace per niente cioè il ragazzino di 19 anni che canta con una voce profonda come se ne avessi 56 è veramente legale si in effetti era è un po' inquietante è un po' inquietante poi come si muove altre cose si no come si muove è la cosa più bella dai il gilettino blu tante cose brutte devo dire una somma di cose brutte che fanno scopa l'uno con l'altro che non è che fanno scusa scopa uno con l'altro dai non capire male no ho bevuto la pozione sono un idiota non capirmi male sono un idiota ho bevuto la pozione invece di usare la magia vabbè vedi pensi a fare scopa uno con l'altro e poi vedi anche te parco giù uh 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 never gonna give you up never gonna let you down never gonna run a proposito il corno io credo eh? io ho usato il corno quando ormai ero troppo tante sì ma nel senso ormai non ci spero neanche più più usi l'attiva sì esatto ci ho rinunciato il mio cuore il mio cuore ha give upato sul fatto che usi l'attiva e give you up sì ma io ho arata give you up my heart give you up my heart let you down esatto sì peccato che non le puoi far più di tre ma probabilmente perché secondo me si li facevano infinito un po' il era un po' giusto un peletto overpowered ma niente no più che altro secondo me il gioco non riusciva a calcolare un cazzo sì poteva anche andare tipo poteva esplodere esatto ok ottimizzazione però però stiamo andando a cuoco dai 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 sì stiamo andando veramente bene io ancora l'armatura non sbaglio no non ce l'ho più però credo di averla persa tipo adesso una roba del genere quindi tanta roba ho 60 sessantesimi proprio facile ho preso una cosa ho sbagliato ho preso una un po' tra l'altro giusto con l'occhio io qua purtroppo non posso saltare verso il basso è un problema dicevo con l'achievement che ho visto prima con la safety dance a te piaceva la safety dance non sto scaricando niente non so è stato un momento un po' così è un momento un po' così con l'espressione un po' così non me la ricordo no mica safety dance era qualcosa di figlio ma non mi ricordo da dove è uscito fuori è una canzone ma che cos'era safety dance safety dance la canzone sì ma ho capito ma non mi ricordo non me la ricordo anni anni 80 70 80 no forse probabilmente 80 sai era figa il video era carino cioè faceva ridere il video non mi ricordo ho preso due danni in quattro piani e ne ho presi 15 negli ultimi due combattimenti ma neanche nella stessa stanza porca e continuiamo funzioni non me la ricordo vabbè sai perché perché sto cercando di fare dash duri e non è lentissimo il dash non so perché non so se il mio pomeriggio che sta cominciando a give up anche lui che senso il dash è lento my thumbs gonna give up è questa cosa qua ci metto due ore ci sto mettendo due ore a farlo ma forse perché sono messo male tipo un nervo mi sto bloccando pozzonele provare dopo perché sono messi bene dici un altare tra l'altro vedi adesso togli le medizioni bastardo quando serve sì esattamente però mi ha fullato la vita ok toglie toglie che c'ho l'esplosione e questi senza testa non li abbiamo uccisi nel coso precedente nope oh cazzo è vero non ho più i calzini non ho più i calzini di no neanche tutta la mia armata di demoni no come eri tu sei un figlio della merda ma no ma come ma da dove sei uscita sono tornato indietro mech ma porca troia ero immortale perché avevo i i i tre demoni sono tornato indietro che ci fai nell'angolino ti veniva dare una mano bastardo cazzo rini strozzo ma porca miseria è stato un momento epico però devo dire por me vai avanti e non so stare questa cazza di cosa lo rompo io va bene ah morto ooo lo sto rompendo lo sto rompendo un attimo un attimo ti preoccupare devo recuperare il momento di crisi mistica che mi sono autoinflitto ok ma che sono giapponese scusa ma che di non puoi non puoi mi devi volere bene sono giapponese quindi non puoi dirmi niente no ma mi posso incazzare duro invece to porco loro ora mi incazzo assassino giapponese o non assassino giapponese ecco c'è del pane più volendo c'è del pane dove è eccolo qua lì si riesca a uccidere il demone in forma di spettro con me con un po' di botte benassestate ce la sto facendo lascialo questo è mio questo è mio lascialo stare questo è mio aia 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 nel tubio resta in vita me ne mancano ecco giuda adesso è che ho ucciso questo magari se ne uccidi quante te ne mancano? sette che cazzo ho l'accetto una bomba si già una cagata tantissima grossissima cagata però potrebbero mettere se uccidi te un nemico torni vita subito c'è che cazzo l'ho ucciso uno l'ho ucciso uno si l'ho ucciso uno si ma muoiono sti cazzo me che schiva oh c'ho fatica c'ho fatica c'ho fatica c'ho la fatica schiva mamma mia c'ho la fatica noo me che scappa 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 di me scappa ok ok me ne mancano solo due oh corpo ah questo questo non riesco a uccidere io questo non riesco a uccidere io ce la posso stare no 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 schiva bravo ok ok ne manca una sola ne manca questo questo ok eccomi eccomi saving private player ciò non era mai successo di dover restare te nel senso quindi di conseguenza promette non è neanche mai realizzato edo quando serviva no per dire anche perché di solito sono io quello che moriva per causa di edo quindi di conseguenza come è successo prima te con me uguale madonna io non mi è uscito dalla bestemmia veramente per non so quale intervento divino buttare via la registrazione per un nulla diciamo ma proprio per poco poco eh stavo veramente esplodendo per un poco martin perse la kappa perché al primo ho detto vabbè mi incazzo male vabbè ma al secondo stavo veramente per il sconto hai pensato hai pensato a quel momento hai pensato beh fa molto ridere nella registrazione si si esatto poi hai detto non fa più ridere nella registrazione non so perché ma ok dai ricompensa per il nemico io ho due punti vita ce ne sono cinque in realtà ma che cazzo muori non sei un team player no in questo momento con te no scusate scusate uno ne ho preso no porco nooo bombe a caso sparate male io tanto ho preso l'armatura e quindi sono invulnerabile per un po' di danni nooo ok ce l'ho fatta ma gli fai gli facciamo due danni nooo minchia le stanno facendo un sacco di danni ma io vedo che è ancora lì che sta raggiando no minchia ha un quarto di vita ma no adesso no si ora si adesso ci siamo e i magic missile miei fanno un sacco di danni magic missile magic missile decay thunder decay thunder allora ah no mamma ma sarà vieni qua morto ok doing adesso assassination ah no non era assassination longsword prendi una te è forte scroll of dapping dapping si che cazzo era? raddoppia un oggetto nella stanza quindi se troviamo una passiva forte possiamo raddoppiarla ok longsword fa più male quindi abbio il marky water la ce l'ho aperta niente no marky water non serve a cazzo ma la cassa che è arrivato fortissima in zona 2 via sei morto bene ok sei un bel fantasma sei un bel fantasma? sei un fantasma giapponese non giapponese eh ok fantasmi giapponese che differenza hanno dai fantasmi normali? ehm potrei fare un po' tutte razziste se già mi dici 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 che ti ho provocato un po' hanno il mantello più corto ecco ecco ci sta ad esempio ci sta ci sta ci sta ci sta ok bene che potrebbe non essere capito da pochi oddio si ci vuole ci vuole poco eh ci vuole un'ingenietà tipica dei giapponesi per dire però però forse ok 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 tanto sono già mortale io sono immortale intanto io non riesco più neanche a spaccare le casse per dire allora mi manca un'anima dell'immortacci sua ottimo andiamo a prenderla subito provvederemo per lei signore grazie ecco qui no però tanto pare no non più no sembra di no sembra dal regia mi comunicano che no perché ha 99 monete forco giuda cioè dai ok sai che potremmo essere dal boss? ho vinto solo per le morti ma perché ti ho ucciso due volte probabilmente si esatto potremmo essere dal boss eh si c'è un... non so di seppia eh si siamo dal boss eh merda oh oh e non siamo particolarmente attrezzati stavolta ah bombe ecco ho due bombe eh numero due bombe usale fidati allora tanto faccio così aia così eh sei una giapponese pia bomba giapponese bomba giapponese ti ho fatto una fava proprio sai da sei da sei da sei da ho notato anch'io gli ho tolto poco ho notato ma meno di poco direi proprio uno stracà uno stracà uno stracà fuoco io sono non sono immune una testa ok una testa è andata tra l'altro sono morto sono morto ottimo for jay to extinguish ma ormai è inutile che mi vai a chiedere di extinguire ok io ho l'armatura del drago che mi permette di resistere va bene quattro danni ma mi rende immune al fuoco e quello non conta e non conta tre danni ogni pala di fuoco prima in faccia non conta tre danni subiti sono solo tipo i danni fisici che contano io nel dubbio vedo quattro paccate nel dubbio un'altra testa non c'è più io ci do quattro paccate se è possibile no ci piscia sopra ah no ci spruzza la sabbia ok chi è che ci spruzza la sabbia? a chi? no sul fuoco per spegnerlo ci sposta la sabbia sopra ma chi? il personaggio morto chi? guarda aaaaaa io? ma anche è forse perché un uomo non ci può pisciare sopra sai che pensavo? penso che ci piscia sopra l'uomo l'uomo ci piscia sopra? penso di sì ma non è una cosa furba scusa non dovrebbe peggiorare la situazione pisciarci sopra sshhhh non è forse allora che roba è undertaker si è diverso takes half off hp off a full health undead eh? non ho capito puoi vedere? prende metà della vita da un non morto full vita quindi? quindi praticamente ti rigenera la vita? mh fico ma vuoi tu? credo peggio vuoi tu? prendo io? prendi te e io prendo la benedizione ok ah no la benedizione dura tot stanze quindi me la tengo ah no minchia quella del duplo si del duplo bella duplicazione e io guarda io se c'hai un pinchi del pingui va bene ah facciamo anche per una maledizione va a far quello volo per cinque stanze spero mi torni un tiro allora questo esatto è una praticamente tu tirala no cazzo cazzo allora se la tiri e non c'è niente sotto scrivi una specie di saltello se la tiri su un diciamo su uno spazio vuoto tipo tipo ponte fa una base fa un ponte un pezzo di ponte se la tiri addosso al nemico lo chiudi dentro una scatola e gli fa si stringe piano piano e continua a fare i danni mentre tu combatti gli altri è carino non è il massimo della vita ma è carino può essere peggio ok 3 minuti e 36 per battere tu un boss trovo perché io ho provato avevo l'armatura del drago poi intanto quella io ci ho provato tanto ma eh avevo l'armatura giusta e faccio un sacco di danni io ero veramente buildato come un animale proprio comunque è l'ascia che si chiama albertaker e tanta roba si questa ascia qua deve essere carina vediamo subito come funziona guarda ci sono i non morti qui ho visto c'è un non morto no 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 te il tuo laser te lo ficchi nel culo ok ce n'era anche un altro in fondo che ci provava ci arrivo ok ci ho pensato se scassi nel caso così sblocchi sblocchi affare oh 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 no howdy how oh uiii soldi e casse e una roba che è già più mi ricordo mai ottimo cos'è sta roba enorme ok questa è mia questa è mia però eh questa è mia ha i tacchi di fuoco ok post non ho più soldi per comprare un cazzo io devo arrivare a 140 voglio i miei tacchi di fuoco che ormai ho preso in ogni razza quindi ok ok vabbè non ti buon di oh 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 io tolto oh facciamo così già che ci siamo non hai capito nessuno ho mancato tutti si ho notato vieni qua ape afroamericana vieni minchia grazie a me per il drago uuuuh crushing blow ma cosa mi ha avvelenato non so cosa ah sti stronzi esplodono quando finiscono la vita ecco cosa mi ha prendo qua ma la merda gli stronzi ciccioni esplodono quindi stai occhio sto cercando di prenderli esplodono e ti avvelenano tra l'altro stai doppiamente occhio aia no c'è una cura elfica in giro però se non sbaglio mamma mia quanta gente c'è massa attaccando a morto gli hai tolto metà vita con un attacco mi sembra in automatico si ma io non ho preso nessuna vita però ah oh cazzo oh mamma mia ho mancato tantissimo un coso ho tremato veramente duro comunque non gli ho fatto si gli ho fatto ci faccio male però credevo che mi desse un po' di vita ok invece no eh bisognerebbe proprio capire bene cosa funziona c'è una cura elfica da qualche parte qui ce l'ho io se vuoi una si ma non posso dartela è vero no si puoi darmela e com'era più? no non c'è nessun tasto per droppare le pozioni torna indietro prendi questa pozione ah si ok scambia a posto guarda hai fatto quello che si si magari puoi usarte la testa potessi venire qui pure si forse si eh però adesso non c'è nessun tasto a spandare ok non volo più ovviamente ci sono delle punte in questa stanza giusto stavo per dirlo stavo per dirlo si calcazzola deve essere utile la vendizione del volo aia aia basta la fa culo oh oh la morti ce l'hai fatta? ci sei? no ora uno ok e dove? ok ce n'è ancora un guone si ottiene sempre ah no ma è ancora lì eh ah bello non l'avevo mica visto infatti diceva perché se ne fa? e io no era bello nascosto proprio per me era completamente nascosto oh imbosgada sono giapponesse non puoi farmi l'imbosgate sono giapponesse esatti aia cos'ha? niente finchè non mi butti giù da un buco nel senso bene finchè non mi cacci giù da un borrone va tutto bene tra il bene e molto bene eeeh ho credo di essermi curato tipo di niente ma si forse è tipo tutto caduto non so uno o qualcosa può darsi sono formato più lì il mio personaggio fa dei fa dei fa una voce che non è giapponese no neanche la voce femminile standard eeeh 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 cerco di tenerti giù qualcuno eeeh ma dove sei che non ti vedo? ok le dura le dura io li butto tutti per terra poi esplosione poi fai tu ci ho tirato tipo nove bombe bravi bravi oh bene ok il mago lo ucciso ho fatto abbastanza male devo dire mancano due due solo per morire per sopravvivere e rivivere una eeeh eeeh ma è vero avevo i demoni sono trovato in vita si sono i demoni che culo che culo i demoni ti hanno salvato le chiappette si direi ah che palle questi che ci hanno il blocco si una bomba toglie un botto in mezzo di vita au 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 ai o au au ma dà anche i calci il bastardo bombarolo di merada si si tutti i nemici di merda sto fio sto fiodena proprio si è un gran fiodena ok e cazzo dai dai c'è tantissima favore di colpire perché ho tipo tre punti vita in questo momento che da bombarolo affetto c'è da mangiare qui dietro allora c'è da mangiare la banana prendo io questo heavy mole allora è lento però distrugge gli scudi senza fare dash o robe strane e quando fai crit ci stanno subito banana presa c'è da mangiare c'è da mangiare lì c'è un panino oh panetto oh scusa sono uscito dalla stanza tutto a posto i piedini li ho presi tu si perché è al doppio salto quindi tu ce l'hai già non fa il quadruplo salto ho già testato no niente sfiga ho già testato vieni qua tu e il tuo scudo della minchia oh buongiorno addio proprio siete proprio quelli giusti devo dire siete proprio i nemici giusti io non sto riuscendo a colpirne mezzo niente mi sta massacrando ok perché faccio i salti sbagliati di qualche pelo di niente quindi stanno minchia quasi morto chezzo di benene chezzo di benene oh spiace no minchia io non c'ho un cazzo di vita dei beneni non siamo messi bene non siamo messi eravamo messi l'altro bene veniva quasi comodo uccidersi uno dei due si è vero eh non ci abbiamo pensato tecnicamente era forse più fuori per uccidersi eh vabbè è quello stesso non ci abbiamo pensato sono stati stupido immunità alle esplosioni tu? credo no? si 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 ok si ti ricorda cosa hai ogni volta che inizi un piano si è sempre comodo soprattutto per quelli aereosclerotici come me maghi del ghiaccio maghi del ghiaccio maghi del ghiaccio maghi del mori 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 mahi del ghiaccio ti fai tu mori 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 ora da venire a darti una baccata si anche io avevo paura ho deciso di starmene lì in un campuccio allora questi non cadono ok vai ah ah vero abbiamo proprio salto dimenticato sono morto ah ciao appena sono atterrato buon viaggio c'è qualcuno quindi lì aspetta gli faccio cadere tutti giù ecco grazie molto gentile ope a posto salta bene hai il doppio salto nec ti accorti che è il doppio salto di merda si si io vado avanti a scautare scautizza che intanto mi abbraccio un po' siamo morti siamo morti siamo morti c'è un beholder ci sono uno due tre quattro nemici normali uno scheletro e due nemici con scul topardi siamo morti vieni orca troia eh il beholder fa un male del dio io corro dovresti riuscire a uccidere mi posso dover trasfinimento scatta quando si quando si vengono i fulmini al beholder vuol dire che sta per scattare e mordere infatti ma mi posso fare tipo un certo spara spara che cazzo ho provato a scappare ho provato a fare un dodge duro niente eh vabbè eh vabbè inchiagnata 40 minuti di run così non è andata malaccio dai no no vabbè però devo dire che i due come sinergia non è male questa questa coppa eh ma oddio che dovresti avere uno con un po' più di vita sì forse servirebbe una sorta di tanto anche solo che è l'avventuriero base cioè qualcosa di più va bene quindi anche per questo appoggio è tutto e ci vediamo alla prossima ciao ciao sono giapponese